L'indicazione, il mio obiettivo di difensore è quello, il primo aspetto che i miei liti devono essere tornati dei suoi e cercare di ingabbiare, il secondo aspetto di avere le mani sulla parte, avere un'attività alla parte di spremio, quindi questo è il tuo insomma, che è il punto del dovere. E' il punto di riuscire a ricevere le mani più naturalmente possibili, ecco, l'unico è un'attività, quindi deve essere, e adesso bisogna cercare di avere la mani meno possibile in atto, questo è stato però tecnico, cioè non è che devo prendere le mani, devo rispettare il movimento tecnico, E' un'attività di sicurezza, di cercare di fare le mani più naturalmente possibili. Vai, un'attività di sicurezza, di cercare di fare le mani più naturalmente possibili. Pot brushed in solito una subito in aidrollamento per aiuti e arrivano in alternatività cinque, Neeebride, slegna psicologinato in un'attività chiavita, di cercare di fare le mani più naturalmente possibili. Sop Innanzi domande, signore di caratteristiche e le mani più naturalmente possibili.